È successo che evidentemente gli elettori ci hanno voluto dare un segnale. Probabilmente una delle cause, così analizzando ad un primo impatto, quello che è il risultato è che sicuramente, visto che c'era una tornata congiunta, elezioni amministrative ed elezioni europee, il fatto che non ci siamo presentati in tanti comuni può aver influito. Quindi questo ci deve indurre a una forte riflessione, perché nel momento in cui anche un elettore del Movimento 5 Stelle si trova a dover eventualmente votare il simbolo del Movimento per le elezioni europee, cioè per l'istituzione più lontana, fisicamente anche un po' nel sentiere comune dalla gente, e non trova poi il corrispondente simbolo nella lista comunale, probabilmente un po' ha fatto riflettere, magari l'elettore o si è astenuto oppure ha deciso di votare per qualcun altro. Ma a questo punto si apre un serio dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle, la leadership di Di Maio può essere messa in discussione? No, no, non si punta il dito contro nessuno, tutti hanno una piccola quota di responsabilità. Come ha detto Di Maio poco fa in conferenza stampa, si vince insieme, si perde insieme. Quindi la riflessione che c'è all'interno del Movimento in realtà era già iniziata, perché comunque c'era già in corso un dibattito su una riorganizzazione interna al Movimento. Questo risultato elettorale purtroppo ha confermato, anzi forse anche un pochino potrà dare un'accelerata a quella che è appunto una discussione che è già in atto al nostro interno. Sicuramente è un risultato in negativo, ma importante comunque che ci deve far ragionare. Io non so cosa succederà nei prossimi mesi, naturalmente non è dato saperlo in questo momento, ma semplicemente perché, come dicevo prima, è in discussione, è in dibattito tutta una serie di questioni. Sicuramente, ripeto, ci sono degli argomenti da affrontare, probabilmente compreso anche quello del limite dei due mandati. Forse qualcosa da rivedere ci sarà. Per il momento abbiamo fatto questa riunione a livello regionale che si è tenuta a Bologna, assieme sia ai consiglieri eletti che anche agli attivisti dei territori. Sono stati messi sul piatto vari argomenti, si farà una sintesi poi a livello nazionale e vedremo quale sarà poi il risultato finale che può riguardare il limite dei due mandati, così come può riguardare la scelta di alcuni coordinatori a livello locale, perché sicuramente serve un maggior dialogo e un maggior coordinamento tra il livello locale e il livello nazionale. Vi porto l'esempio di Cesena, due gruppi contrapposti che hanno litigato fino al sangue, praticamente fino all'ultimo, finché poi non è stato concesso un simbolo. Ecco, anche qui non si è chiaramente, come dire, non si dà un'immagine di affidabilità, specialmente quando bisogna governare un comune. Sì, non posso fare altro che essere d'accordo queste faziosità interne. Ci vorrebbero più senso le anche a Cesena magari. Ma io credo che semplicemente vada ritrovato un pochino lo spirito iniziale che era quello del Movimento 5 Stelle, cioè quello di mettersi a disposizione della cittadinanza. Poi che anche al proprio interno ci possano essere opinioni diverse, è più che naturale, immagino ci siano in tutte le forze politiche. L'importante è trovare una sintesi perché l'obiettivo finale deve essere uno, cioè quello di migliorare la vita dei cittadini. Anche da parte di Di Maio è stata affermata la stessa cosa. C'è un contratto, ci sono degli argomenti in agenda da portare avanti, gli aiuti alle famiglie piuttosto che la flat tax, piuttosto che altro. E aggiungo non solo la quantità di cose che sono state fatte, ma credo che dopo decenni sia la prima volta che finalmente un governo fa quello che dice. Perché bisogna dire anche questo. Da parte del Movimento 5 Stelle, ad esempio, se fino a ieri i consensi e tuttora i seggi in Parlamento avevano un peso diverso, comunque l'atteggiamento che è stato mandato avanti anche dal nostro capo politico è stato quello di trattamento alla pari. Cioè c'è un elenco di cose da fare per il Paese e su quelle si va avanti. Quindi per il momento non si parla assolutamente di cambiamenti in questo senso. Anzi, l'incentivo di oggi è quello di continuare a lavorare e cercare di farlo in fretta perché se ci sono state delle divergenze in campagna elettorale su alcuni argomenti, purtroppo si sa, noi siamo intransigenti e quindi insomma siamo rimasti coerenti nella nostra intransigenza, chiaramente da oggi si ricomincia a lavorare per il Paese. I partiti classici, i loro simboli sono scomparsi o molto molto piccoli sulle schede elettorali mentre invece c'è un grande avanzare delle liste civiche, di volti nuovi, di personaggi nuovi e quindi c'è sempre più bisogno di riferirsi al candidato, al personaggio e non più all'appartenenza politica. Raffaella Senso, voi avete dato un contributo al cambiamento della politica, questo senza dubbio. Sì, noi inizialmente eravamo un insieme di liste civiche, quando ancora il Movimento 5 Stelle non esisteva come forza politica, comunque siamo nati come un insieme di liste civiche e proprio il ragionamento sulle liste civiche sarà uno dei punti chiave di quella che sarà la futura riorganizzazione, se ne è parlato, se ne discute perché sono d'accordo. A livello locale la figura, la persona viene ancora prima del simbolo, è ovvio che non dovrà succedere, non deve succedere per quanto ci riguarda e per come la pensiamo che poi siano le cosiddette liste civiche, cioè che sotto sotto poi alla fine le persone siano sempre le stesse, solamente cambiano il simbolo perché magari quel simbolo in quel momento non va tanto bene dal punto di vista elettorale, quindi l'anima civica pura deve rimanere da parte nostra. Sicuramente è uno dei tanti cambiamenti che abbiamo portato noi nel modo di fare politica. Il dialogo Raffaella Sensoli all'interno del governo nazionale è stato un po' litigioso nell'ultimo periodo, sarà stata la campagna elettorale ma sarà stata anche sostanzialmente due DNA diversi fra i vostri partiti. Certo, noi questo non l'abbiamo mai negato, cioè quello di essere sostanzialmente due forze politiche differenti, cioè votare Movimento 5 Stelle non significa votare Lega e viceversa. Abbiamo dei punti sui quali siamo divergenti, però c'è un contratto di governo che abbiamo messo nero su bianco e che entrambe le forze politiche rispettano in maniera leale e hanno rispettato in maniera leale finora. È chiaro che ad esempio il caso Siri, ovvio, ci ha trovato in contrapposizione perché nel momento in cui noi abbiamo chiesto le dimissioni di Siri e invece Matteo Salvini continuava a difenderlo nonostante le nostre ragioni, e ovvio che ha creato quell'attimo di divergenza sull'argomento specifico, che però non è un argomento che riguarda il contratto di governo, fa parte di quella area per la quale, dicevo, noi siamo piuttosto intransigenti perché riteniamo che la politica italiana sia già stata sufficientemente subissata da quello che è il fenomeno della corruzione o delle ombre che possono esserci sulle persone che ruotano attorno al governo e che governano il Paese. Quindi da questo punto di vista ovviamente abbiamo fatto sentire un po' la nostra voce. Per il resto va come deve andare e ci auguriamo che continui ad andare così per i prossimi quattro anni. Concordo con le considerazioni che ha fatto Celletti sul Partito Democratico. A volte a me sembra di vedere un po' il ritratto di Dorian Gray perché continuano a essere autoreferenziali, a raccontarsela un po' da soli e continuano a fare questo buon viso che però non corrisponde alla realtà dei fatti. Anzi, nei numeri assoluti da quello che mi risulta a livello nazionale il Partito Democratico ha perso ancora voti. Certo è che però una bella alleanza, dico bella ed è un eufemismo con il Partito Democratico, vi avrebbe visto meno fagogitati da un leader così forte come Salvini. Ma con questo Partito Democratico ad oggi non c'è possibilità. Questo che non è quello di Renzi, che non è più quello di Renzi. In realtà non abbiamo visto differenze, a noi Zingaretti sembra un Renzi che ha cambiato faccia perché anche le dichiarazioni che ha fatto oggi mi sembrava di sentire un discorso renziano. Noi l'abbiamo ammesso, queste elezioni non sono andate bene, non sono andate come speravamo. Bisogna dire le cose come stanno, bisogna mettere e ripartire dai propri errori. Lo facciamo noi e vorremmo lo facessero anche gli altri. Con un Partito Democratico che l'unico provvedimento che ha portato in Parlamento da quando c'è Zingaretti è quello di aumentare gli stipendi dei parlamentari. Quando noi invece proponiamo di tagliare sia gli stipendi che il numero dei parlamentari proprio per risparmiare soldi e metterli a disposizione dei cittadini, direi che ha pochi punti in comune con noi. Però questo fatto di aver perso la leadership in Emilia-Romagna che è sempre stata una roccaforte inespugnabile, sembrava inespugnabile, questo secondo me è una cosa da sottolineare, cioè che è una montagna che si è messa lì. Ma sono elezioni europee, se fosse confermato il dato della Lega sopra il PD ovunque, noi oggi avremmo dovuto perdere tutti i comuni. Abbiamo vinto i comuni del Riminese a guida PD, non li hanno vinti i candidati del centrodestra. Quindi questo per dire che nel progetto, ovviamente nelle elezioni europee, il crollo dei 5 Stelle, il fatto che il PD abbia aumentato consenso e la crescita vertiginosa della Lega, è chiaro che c'è un vincitore, questo evidenza tutti che è Salvini, non conferma il risultato però territoriale. Ecco perché la partita sulle regionali è ancora tutta aperta. Io sono convinta che il buon governo dei territori, che la politica non fatta di annunci e di scontro solo verbale, ma di fatti, di capacità di creare politiche di governo territoriale che danno e garantiscono la qualità dei servizi ai cittadini, alla fine viene premiato. Lo stanno dimostrando i comuni e sono convinta che il progetto del centro-sinistro in Emilia Romagna è un progetto sicuramente forte e credibile. Raffaella Sensori voleva replicare a Emma Petitti. Sì, volevo fare in realtà un paio di considerazioni. Innanzitutto mi dispiace vedere, constatare ancora che si usa un atteggiamento da vecchia politica o da politica superata per cui non si perde mai. In Italia nessuno perdeva mai. Noi l'abbiamo ammesso, per noi sono andate male e non ci vergogniamo perché dagli errori poi si può anche ripartire. Per quanto riguarda il recupero che c'è stato in Emilia Romagna di una quota di voti da parte del Partito Democratico, io farei anche un'altra considerazione. Il Movimento 5 Stelle si è sempre posto come una forza né di destra né di sinistra. Volevamo superare questo concetto ideologico di destra e di sinistra e quindi indubbiamente abbiamo raccolto voti l'anno scorso da entrambe le parti. Sicuramente una quota di voti raccolti anche a sinistra, da quella sinistra delusa dal Partito Democratico, probabilmente non è stata soddisfatta del governo e del contratto che abbiamo fatto con la Lega. Questo è plausibile. E quindi secondo me più che Zingaretti magari è stata quella quota di voti che ha deciso oggi di rivotare per le europee il Partito Democratico o in alcuni casi i sindaci del Partito Democratico perché all'assessore Petiti riminese come me ricordo però che rappresenta la regione quindi limitare la valutazione solamente a riminese mi sembra quantomeno parziale. Quindi le considerazioni da fare queste. Poi in ultimo magari quando ci sarà più tempo a disposizione, maggior tempo, gradirei anche avere l'elenco delle cose che questo governo aveva detto che avrebbe fatto e non ha fatto considerando che siamo al governo da un anno. Dove abbiamo candidato consiglieri che hanno già fatto un primo mandato, quindi dove il candidato sindaco è una persona già conosciuta dai cittadini e che comunque ha raccolto un'esperienza di cinque anni andiamo leggermente meglio. Dove invece il candidato sindaco non è conosciuto ai cittadini semplicemente perché non ha una storia all'interno dell'istituzione andiamo un pochino peggio. Questo all'incirca. Ho visto l'eccezione di Cervia dove il candidato, dove Pier Bonaretti comunque godeva già di ottima fama. Questo è un altro, ad esempio, un altro spunto di riflessione sul quale si può ragionare. Cioè il fatto che comunque anche questo fattore incide ovviamente sulla scelta dei cittadini. Credo abbiamo detto più o meno tutto. Quello che mi auguro io da oggi appunto è quello che poi è stato annunciato da Luigi Di Maio, cioè da oggi capire le cause che hanno portato a questo calo di consenso e ripartire soprattutto dai territori e dalla partecipazione che è quello che poi ci ha fatto nascere. Bene, grazie a Raffaella Sensoli.